Ciao a tutti ragazzi, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Juventus Inter diretta e condotta da Massimiliano Allegri. Ci sono stati diversi spunti di riflessione per la formazione titolare di domani e quindi ho anche provato ad inventarne perché Allegri dice una certa cosa sul finale che un po' mi ha messo paura, ma ci arriviamo, andiamo con calma. Intanto faccio un piccolo annuncio domani mattina per stemperare un po' la tensione di questa partita, visto che oggi siamo alla vigilia e domani si gioca, nella mattinata cercherò di caricare un contenuto un po' più leggero. Dato che oggi sono uscite le indiscrezioni di quella che potrebbe essere la maglia del prossimo anno, il primo kit, quello bianco-nero, ho cercato di raccogliere alcune vostre opinioni in confronto, nei confronti di quelle che sono state le immagini che sono trapelate su internet di veri e propri leak, non confermati ancora ufficialmente, e mi avete lasciato le vostre opinioni, quindi andrò a fare una raccolta e metterò tutto insieme in un video. Domani sarete voi i protagonisti di questo video. Allora, iniziamo subito, perché Massimiliano Allegri fa il punto degli infortunati e dice Chiellini, Zaccaria e Alessandro stanno bene, recuperati. Chiellini sarà titolare, Alessandro sarà titolare, già io vedo il Vietnam pensando all'ultima partita di Alessandro contro l'Inter, Zaccaria ancora non lo so, devo decidere. Bonucci invece non è al 100%, ancora un po' indietro, quindi va in panchina, ma praticamente siamo tutti abili e arruolati, mancano solo i lungodegenti, Caio e Jorge, Chiesa e McKennie. Di bala gioca, dice Allegri, solo che qui c'è un dettaglio, dice di bala gioca, non dice gioca titolare, quindi vediamo, potrebbe anche essere un modo come un altro per mettere un po' le carte in tavola, comunque eventualmente avrebbe già detto tanti giocatori, perché immagino Cesni in porta, di bala gioca, Chiellini gioca, Alessandro gioca, sono già 4 su 11, quindi vediamo un po'. E poi gli fanno delle domande su di bala, tante domande su di bala, questa è una vera e propria conferenza tema di bala, e dice con la società siamo in linea su tutto, c'è unità di intenti nella programmazione, quindi ammette che lui stesso è stato interessato di quello che è stato il confronto con la società per farsi di capire se andare avanti oppure no con Paolo di bala. E poi insiste, non è il primo calciatore che cambia la società, ma questo non deve assolutamente distoglierci dal nostro obiettivo che è concludere questi ultimi 50 giorni nel migliori dei modi perché la squadra, quindi non il singolo Paolo di bala, ha degli obiettivi da raggiungere. Non faccio il mercato dell'Inter, quindi non so se di bala andrà lì e poi tirano fuori il nome di Pogba. Io mi chiedo, quando fate ad Allegri in una conferenza stampa pre-Juventus-Inter, importantissimo la domanda, Pogba può servire alla Juventus, ma quale risposta vi aspettate? Perché chiedere ad Allegri una roba del genere? Domani si gioca una partita importantissima e gli si chiede se Pogba può essere utile alla Juventus. Conoscendo Allegri che cosa... mi sarei stupito di sentire un po' come quando fa l'intervista a Buffon e gli chiedono, siete tutti dalla parte di Sarri? E Buffon gli risponde per percularli no, siamo tutti contro il mister, assolutamente. Cioè, che cosa doveva dire? Sì, Pogba lo prendiamo noi, cioè... vabbè. Diamo un po' avanti. Appunto, una partita, dice Allegri, agganciandosi anche agli obiettivi, che può permetterci di consolidare il quarto posto e dato che abbiamo perso la Supercoppa e a Milano abbiamo pareggiato, i risultati nel calcio sono 3x1 e 2, quindi a un certo punto magari potrebbe toccare a noi la vittoria. Abbiamo bisogno di energie fresche e nuove, quindi questa cosa è utile, questa cosa intendo aver recuperato tanti giocatori per garantirci anche un po' di continuità perché i cambi diventeranno molto molto importanti. Concentriamoci su domani, la posizione in classifica la vediamo al termine della partita. Allegri qui è molto cauto e credo che faccia bene, nel senso noi tifosi, io che faccio i video, voi nei commenti, ma gli stessi giornalisti hanno diritto a fare queste domande, ma l'allenatore in questo momento della classifica se ne deve fregare. Cioè deve pensare che ormai c'è una partita da andare a giocare e possibilmente vincere perché penso che il pareggio non sia utile né alla Juve né all'Inter o almeno alla Juve il pareggio è utile, se Allegri davvero pensa che l'obiettivo sia arrivare nelle prime quattro e basta, invece la vittoria è essenziale per cercare di ambire a qualcosa di più che non significa per forza di cose scudetto ma anche solo cercare di non arrivare quarti e migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso che non è stato niente di eccezionale. Inzaghi è più fortunato nelle partite secche, domani speriamo di essere fortunati noi perché gli fanno notare che praticamente Allegri ha sempre vinto contro Inzaghi nelle partite di campionato tranne in un'occasione, quella dell'andata dove hanno pareggiato, mentre invece nelle partite secche, le Supercoppe e le Coppe Italia ha sempre vinto Inzaghi, quindi Allegri se la gioca con una battuta. Poi Allegri chiude un cerchio che è quello che aveva detto anche Chino, lo abbiamo detto anche in un video di Chino che uscirà proprio domani. Juventus Inter è stata la prima partita a porte chiuse e domani sarà la prima partita al 100% di capienza, quindi si chiude questo cerchio. Aggiungo io Paolo Dybala che in quella partita la fa un gol strepitoso partendo largo a destra andando a dialogare con i compagni e la risolve e ce la fa vincere. Cerchio che si chiude e vi dico che per quanto mi riguarda Dybala giocherà largo a destra. Non giochiamo per far perdere lo scudetto all'Inter, ma per fare punti noi e raggiungere i nostri obiettivi. Giustamente l'allenatore della Juventus anche qui non andrà mai in conferenza stampa a dire no, noi giochiamo per fare un dispetto all'Inter, ma dove viviamo? Chiesa, gli fanno una domanda su Chiesa, se può essere lui il giocatore del futuro, gli dice lasciamolo recuperare, deve farlo nel miglior tempo possibile, lo stiamo aspettando, ci mancano lui e McKennie per una questione di caratteristiche dei calciatori e in effetti sono due calciatori abbastanza unici nella rosa della Juventus. Allegri lo ribadisce, non pensiamo al futuro, non pensiamo al mercato, pensiamo che abbiano 50 giorni e dobbiamo concludere bene questi 50 giorni, fa bene a tenere tutto lì perché è facile, c'è l'ambiente esterno, è già proiettato, l'abbiamo visto anche qua sul canale, abbiamo parlato di mercato, di futuro e qui e là, ma loro internamente c'è un campionato, una stagione da concludere, quindi giustissimo. Poi due parole su Elkan, che dice non ha mai fatto mancare la sua presenza, la Juventus è importante per la famiglia quest'anno, l'anno prossimo farà 100 anni di proprietà Juventus e l'ha sempre mantenuta bene o male ad alti livelli. Poi qua fa una considerazione importante, Allegri dice quest'anno siamo cresciuti molto, ma non abbastanza per vincere, il prossimo anno ai blocchi di partenza dobbiamo essere in condizione migliore. che qui il mio cervello è andato lì, il mio cervello è andato a pensare a Cristiano Ronaldo, per forza di cosa ha pensato a Cristiano Ronaldo, perché ai blocchi di partenza quest'anno eravamo un po' così, Udine, dove entra tra l'altro Ronaldo e dove fa l'ultima comparsata con la maglia della Juve, quindi niente mi leverà dalla testa che questo riferimento di Allegri sia stato esattamente nei confronti della condizione che si era venuta a creare con Cristiano Ronaldo. Una parola anche su Tevez, dice contento di rivederlo, è un campione straordinario che ho avuto la fortuna di allenare, quando rivedo giocatori del suo calibro, quindi grandi campioni che ho allenato, mi emoziono perché mi hanno trasmesso tanto, mi hanno anche insegnato tanto e ho goduto nel vedere anche le loro giocate, quindi Allegri è veramente un filo rosso che ci riporta nel passato a quella finale di Berlino con Tevez e Allegri, che è stata l'ultima partita nella quale la pace è stato agli ordini di Massimiliano Allegri e giocatore della Juventus. Speriamo di poterlo accantonare quel brutto momento di Berlino domani sera con Tevez che esulterà eventualmente a una vittoria della Juventus. Poi attenzione perché qua Allegri, allora vi dico prima l'ultima cosa che ho detto, poi la penultima. Anche Bernardeschi potrebbe essere titolare, ha buttato lì. Però Allegri a un certo punto dice, non ho ancora idea della formazione che farò giocare, non fatemi domande, non chiedetemi. E dopo qualche minuto invece dice, se domani qualcuno indovina la formazione, vuol dire che ve la dicono. Domani indovinare la formazione è impossibile. Allora qua, un coccolone, un colpo al cuore, mi sono detto, oioioi. Allora non è vero che non la sai ancora, il solito bugiardo, Massimiliano il bugiardo, sempre lui. Proviamo a inventarcela. Allora, partendo dal presupposto che Scesni gioca, dato che immagino che giocherà Scesni, Sandro gioca, Chiellini gioca, chi era l'altro? Di Bala. Ok, questi sono quattro. Io aggiungo, io aggiungo, Delete, che penso che giocherà, Vlaovic, che penso che giocherà, Quadrado, che penso che giocherà, Rabiot, che penso che giocherà, Locatelli, che penso che giocherà, Morata, che penso che giocherà, e Zaccaria. E ve la metto giù così. Questa è la formazione che secondo me domani partirà a titolare con l'Inter. Allora, il tridente ve l'ho già spiegato in uno shorts, ve lo lascio qui sopra nelle schede, l'ho pubblicato su TikTok, l'ho pubblicato su Instagram, l'ho pubblicato un po' dappertutto, quindi vi spiego perché secondo me domani sarà 4-3-3, domani sarà almeno tre giocatori davanti, poi vedremo. Tre giocatori davanti. È una lettura tattica che ho fatto nei confronti del passato live di quest'anno e di un'altra partita storica, sempre di un Juventus Inter, un po' amaro per noi, quindi datevi a vedere il perché secondo me. Poi vi dico, no Arthur e no Danilo, perché sono tornati tardi, quindi non hanno avuto la possibilità di allenarsi per tanto tempo come magari altri con il resto del gruppo, e gli altri sono Morata, che penso che appunto giocherà, Delit immagino giocherà, e Blaovic che dovrebbe giocare anche se aveva avuto quel problemino, quindi non era andato con la nazionale, però in teoria è tutto recuperato. Quindi stando alle informazioni che ci ha dato Allegri, stando a questa fantomatica non la indovinirete mai, e stando a quello che è stato il mio ragionamento nel perché giocherà il tridente, per me questa sarà la formazione titolare. E dato che ha detto che è impossibile da indovinare soltanto se te la dico non la indovini, io provo a mettere i miei due centesimi, ma fatemi sapere anche secondo voi quale sarà la formazione, oggi video abbastanza corto perché non ci sono state chissà quali informazioni nella conferenza stampa c'è solo questo giochino qua. Quindi sfido ufficialmente Massimiliano Allegri, vediamo se indovino.